Il forte interesse e l'intenzione di conservare aspetti e cultura pugliesi attraverso l'istinto di protezione da quelle che potevano essere delle minacce esterne, degli attacchi esterni, importò Federico II di Svevia a progettare e poi realizzare diverse architetture militari su tutto il territorio. Tra le altre, nel 1220, la torre federiciana di 28 metri di altezza nel comune di Leverano, anche presente sullo stemma civico della piccola cittadina salentina. Leverano, anche conosciuta come la città dei fiori, un attivissimo centro agricolo a pochi chilometri dalla costa ionica, una terra ricca di masserie fortificate che nel corso del tempo sono state trasformate in strutture ricettive, ma alcune delle quali ancora conservano e accolgono i contadini piuttosto che i pastori impegnati in cicli produttivi di autosostentamento che molto ricordano il passato ma che sicuramente sotto alcuni aspetti dovrebbero essere ristudiati in un'ottica futura. Leverano è anche la sede della festa sul Vironovello ed è qui che nel 1580 Francesco Antonio Zecca, un imprenditore agricolo, si trasferisce. Da lì, in cinque secoli di storia, l'azienda agricola Conti Zecca è riuscita a integrare tutte le fasi del processo produttivo, quindi partendo dalla scelta dei territori, del portainnesto, della varietà e poi del crone specifico, la vinificazione e poi l'imbottigliamento e la messa in commercio dei propri vini. In questi cinque secoli l'amore, l'impegno, la costanza sul territorio ha portato nel 1884 il conferimento del titolo di nobili alla famiglia Zecca che passa da notabili, quindi a nobili. Nel 1935 è la realizzazione della cantina di vinificazione. Ad oggi la cantina conta circa 320 etterri vitati dislocati in quattro tenute, la tenuta Saraceni, Donna Marzia, Santo Stefano e Cantalupi e la filosofia produttiva è quella di essere fieri custodi della tradizione vitivinicola locale con un focus, con un'attenzione sulla sostenibilità ambientale e quindi anche etica economica. Sostenibilità ambientale è dettata da una riduzione dei principi attivi e quindi degli interventi sulla vigna a favore quindi di una certificazione biologica. A testimoniare l'occhio di riguardo verso l'investimento, verso le tecnologie, verso il futuro, la consulenza qualche anno fa da parte di Marco Simonint e Pierpaolo Sirce, per chi non li conosce, due luminari, dei sistemi innovativi di potatura. Un altro grande tassello sulla testimonianza dell'amore per il territorio è l'affascinante gara podistica conosciuta come 10.000 vigne del Negro Amaro, ora anche nella versione 21.000 vigne, quindi delle gare podistiche che si realizzano all'interno dei vigneti della cantina. Oggi voglio presentarvi un'altra grandissima eccellenza pugliese, Argentina, azienda agricola Conti Zecca, il vino è Luna, nell'annata 2018. Luna è un blend fra Malvasia bianca 50% e Chardonnay 50%. L'affinamento, ma già la vinificazione, già la fermentazione, avviene in barrique di rovere per circa sei mesi e poi si protrae per altri due mesi in bottiglia prima dell'emissione sul mercato. I terreni si dislocano fra Leverano e Salice Salentino, in dei terreni a medio impasto con alcune chiazze, alcuni punti calcarei. Andiamo alla degustazione. Il vino all'interno del calice si presenta di un bellissimo giallo dorato, di bella trasparenza, limpido sicuramente. Si muove all'interno del calice con una bella consistenza per tipologia appunto. Sentiamolo al naso. Un naso di bell'impatto, intenso e complesso. Dei sentorinetti abbiamo questa frutta esotica, candita, ananas, banana. Poi dei richiami floreali di camomilla e mimosa, magari leggermente appassite. Una cornice speziata di cioccolato bianco, nocciole tostate, vaniglia. E poi ancora dei ricordi di miele. Vediamo in bocca. Un assaggio secco, caldo, equilibrato in freschezza, ma pieno, avvolgente. Di corpo per tipologia. Un vino intenso che rimane persistente e che poi al ritorno retronasale dà questi sentori quasi agrumati. Sicuramente tantissima possibilità evolutiva, nel senso che il vino E1 2018 è ancora molto giovane e potrà sicuramente riservarci delle bellissime sorprese in futuro. Coerente con la tipologia di vino bianco affinato in barrique, già vediamo il colore dorato. Per quanto riguarda l'abbinamento, sicuramente delle preparazioni strutturate, elaborate, delle preparazioni elaborate di pesce e con delle cotture strutturate, ma anche aromatizzate con magari del curry o della cannella. Forse usciamo un attimo dall'aspetto territoriale oggi e io lo proporrei con una gustosissima paella spagnola. Grazie.